Ciao Gianni, secondo te che cos'è un tecno creativo? Lo chiediamo a Fuffi che è il mio consulente, che è questo qua, che consiglio di inquadrare, perché forse lui ne sa più di me. No, scherzo, in realtà un tecno creativo nella mia testa siamo noi. Dico siamo perché col materiale umano che c'è siamo almeno due nel mio perimetro. Io per lungo tempo ho fatto il programmatore, prima di occuparmi di comicità, di intrattenimento, quindi mi è rimasta questa passione da ex lavoratore del settore e ho unito quindi la tecnica alla creatività. Quindi io sono ragioniere diplomato in ragioneria che però occupandosi poi di creatività ha sposato queste due anime molto differenti, io sono anche dei gemelli che la gente a casa magari non ne frega niente però a me interessa, cioè questo dualismo perpetuo, ho anche il doppio mento per quello perché siamo sempre due e quindi ho sposato queste due anime diverse ed è divertente vedere come una contaminazione tra due cose così differenti dia la possibilità poi di creare un terzo elemento che comprenda un po' dell'uno e un po' dell'altro, cioè la creatività applicata alla conoscenza del mezzo tecnico quindi viene amplificata, una specie di iper realtà o come si dice adesso realtà aumentata, in questo caso come creatività aumentata. Ho risposto bene, mi sembrava di sì. Quindi tu assolutamente ti senti un tecno creativo? Ma non lo so se mi sento un tecno creativo, mi sento un creativo a cui piace lavorare molto con la tecnica. Che significa per te anche tecnologia? Soprattutto tecnologia perché la tecnologia ti dà la possibilità di fare delle cose, facciamo un esempio, con un Macintosh qualsiasi da poco meno di 1000 euro a casa, adesso si riescono a fare dei filmati divertenti con del chroma key, cioè voglio dire fino a qualche anno fa era una cosa che costava, mira di Dio, che a casa non potevi fare, non potevi fare. È chiaro che se uno ha la possibilità di avere uno strumento che prima non c'era, ha la possibilità di sperimentare a casa sua, con dei costi ridicoli, delle idee e quindi di ampliare l'utilizzo della tecnologia che viene fuori. Ho detto bene? Ti ringrazio. Saluti a casa. Grazie. Grazie.